Ciao a tutti ragazzi, in questa video lezione vogliamo risolvere la seguente equazione 10 seno di x più 5 uguale a 0, portando il 5 al secondo membro si ha 10 seno di x uguale meno 5. E vediamo adesso il primo e il secondo membro di questa equazione per 10 ed otteniamo seno di x uguale meno 5 decimi, quindi semplificando seno di x uguale meno un mezzo. Vediamo graficamente come risolvere questa equazione. Consideriamo una circonferenza coreometrica, quindi di raggio 1, un punto P che si muove su essa, un angolo alfa e il corrispondente seno di alfa indicato in figura con un vettore verde. Il seno di alfa è uguale ad un mezzo quando l'angolo alfa è uguale a 30 gradi, questo è un valore noto che si deve conoscere. Alternativamente, se ricordiamo le formule relative agli archi associati, il seno di alfa è uguale ad un mezzo quando alfa è uguale a 180 gradi meno 30 gradi. Il seno di alfa invece è uguale a meno un mezzo, e questo è il caso che ci interessa, quando alfa è uguale a 180 gradi più quest'angolo beta disegnato in figura in rosa che è 30 gradi, quindi 180 gradi più 30 gradi che è 210 gradi. C'è poi da considerare la periodicità della funzione seno. L'altra posizione del punto P sulla circonferenza, il cui seno dell'angolo corrispondente alfa è meno un mezzo, è quella mostrata in figura. In questo caso l'angolo alfa vale 360 gradi meno quest'angolo gamma disegnato in rosa in figura che è pure 30 gradi, quindi 360 gradi meno 30 gradi, cioè 330 gradi. Anche in questo caso poi dovremmo considerare la periodicità della funzione seno che è 360 gradi. Tornando adesso al nostro problema analitico e ricordando che nel nostro caso l'incognita è x e non alfa, possiamo scrivere che il seno di x è uguale a meno un mezzo quando x è uguale a 180 gradi più 30 gradi, quindi 210 gradi più la periodicità, cioè k 360 gradi, oppure quando x è uguale a 360 gradi meno 30 gradi, cioè 330 gradi, più la periodicità che è k 360 gradi. Volendo esprimere i radianti queste misure scriveremo che x è uguale a 7 sesti pi greco più 2k pi greco, oppure x è uguale ad 11 sesti pi greco più la periodicità, cioè più 2k pi greco. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.